Benvenuti in taverna, io sono Giacomo, conosciuto qui anche come lì ci sono un content creator e streamer dall'estate del 2021. I live su Twitch portano prevalentemente variati di ogni genere tra blind run, riscoperte, speed run e chi più ne ha più ne metta. Mentre su YouTube potrete trovare video inediti molto più complessi e articolati sempre sul mondo videoludico. Piccoli best of delle varie serie portate in live, clip montate e ovviamente anche le live ricaricate. Potete trovarmi live su Twitch dal lunedì al venerdì dalle 22 in poi, ovviamente salvo casini. E se volete rimanere aggiornati in descrizione troverete tutti i miei link utili. Quindi in caso volete passare a fare un saluto siete più che benvenuti. Io sono Leach, ci vediamo in taverna.